Improvvisamente quello della Juve sembra un mercato affannoso. Quando devi vendere grandi giocatori, Di Bala, Manzocchi, Matuidi, Higuain, Lugani, e fai fatica, tutto diventa più opaco, i giocatori e la bellezza del progetto. Ci si chiede dove stia la realtà, quanto i nuovi siano migliori di quelli che devono andarci, se conveniva rifondare in modo così netto una squadra vincente. C'è in questi giorni una piccola criticità che nella Juve è rara. Sta soffrendo l'immagine della società che faceva del mercato il suo giardino privato. Sono piccole suggestioni estive, ma ci sono, che vanno segnalate. Fanno parte di un disegno più grande, che non è ancora chiaro. Perché Higuain non basta più? Perché aspettare Icardi, il centravanti dell'avversario? Perché questo slancio nel mettere alla porta Di Bala? Servono soldi in fretta? Anche questo è un diritto, ma anche una novità. Lo stupore nasce proprio da queste esigenze poco lineari, sconosciute alla Juve. Ciao! Ciao!